Grazie, 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 grazie Butaio. Non lo sto usando questo praticamente. Ma sì, che cazzo te ne farei? Adesso prendiamo una persona. A caso? Dai, vieni qua però. Una persona che più che una vita ha vissuto un giro infinito di roulette. Lui si considera ancora, nonostante tutto, un dado, un dado che sta. Girando non è ancora uscito il suo numero e lui cercherà di mettere ancora una volta il tutto per tutto in una sconsiderata e assurda rapina in banca che potrebbe risolvere ancora una volta la sua vita stranissima. Su nome è già un enigma. Adesso ve lo dici. La sua storia, Giovanna, sicuramente non è facilmente decodificata. Potete me affermare un dado in tanto che le tre agirà? La giornata è scritta. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.